Attenzione ancora a alcune lecciure che stanno per posizionarsi, i cartelli che scappassano la penultima fila ora, ora l'ultima fila, attenzione, va a terra verde, 5 secondi, 5 e ora il senatore rosso, rosso, va, partiti, scassa in questo momento, l'ultima fila è partita, attenzione, scassa, scassi, scassa, 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 scassa Grazie a tutti. 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 Preparate il mio sorporto perché sarà veramente grande, grande.